Oggi è la seconda edizione del premio al merito di Dodò Gabriele, parlare di illegalità è importante. Sì, assolutamente sì, è un grande onore ricevere un premio intitolato e dedicato a Dodò Gabriele. È un fatto terribile, un bambino ucciso dall'andrangheta di Crotone e stiamo appunto riflettendo su questo, che un episodio del genere sarebbe già di per sé sufficiente per isolare questi delinquenti dell'andrangheta, per prendere distanze. Ciò nonostante ancora oggi si notano complicità, connivenza, indifferenza e il guardare dall'altra parte. I cittadini specialmente di questo territorio devono sapere che l'andrangheta non è un problema degli altri, non è un problema delle forze di polizia o della magistratura ma è un problema di tutti, perché l'andrangheta vuole rubare la vita di tutti specialmente dei nostri ragazzi e questo dobbiamo assolutamente impedirglielo, quindi bisogna isolarla, bisogna non dare il consenso sociale, bisogna tagliare i ponti con l'andrangheta e assolutamente rispettare le regole. Non bisogna avere paura dell'andrangheta ma bisogna essere cittadini onesti e rispettosi delle regole. Assolutamente sì, l'andrangheta teme le persone che rigano diritto, teme le persone che rispettano le regole e quindi più sei forte, più mostri il tuo coraggio, più l'andrangheta viene isolata.